Sofì Taricone, 18 anni compiuti lo scorso 4 settembre, è identica al padre. La figlia di Pietro Taricone e Casia Smutniac ha gli stessi occhi dell'attore, le sue stesse espressioni e il suo sorriso. L'ex indimenticato protagonista del primo grande fratello è scomparso tragicamente a 35 anni il 28 giugno 2010 per un incidente durante un lancio con il paracadute. Lei all'epoca aveva solo 5 anni. Diva e donna pubblica alcune foto della ragazza e rimarca l'incredibile somiglianza. Sofì è stata immortalata mentre trascorreva alcuni giorni di vacanza a Taormina insieme alla madre 43enne. Molto schiva, quasi sempre lontano dai riflettori, ama la fotografia e i viaggi. Durante la crescita ha sentito moltissimo la mancanza di Pietro al suo fianco, a confortarla e donarla e affetto di hanno pensato Casia e suo attuale compagno. Il produttore Domenico Procacci, in passato tra i migliori amici di Pietro. La Smutniac da lui ha avuto un secondo figlio, Leone, nato nel 2014. Quattro anni fa Sofì ha accompagnato la mamma e Procacci mostra del cinema di Venezia. Dove entrambi erano in concorso con un film, e ha possato sul red carpet insieme a loro. Dove entrambi erano in concorso con un film, e ha possato 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 un film. Grazie. 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 Grazie.